Questo funziona? No, è qua per bellezza. Ah no, sì che funziona. Ringrazio Matteo per le belle parole, ringrazio voi per la pazienza perché venire di sera, questa è la prima volta che facciamo una cosa di sera, infatti si presta bene per chiacchierare in modo un po' pacato, ecco, magari tante altre volte ci sono stati dei discorsi magari un pochettino arrembanti in queste cose, in questi incontri nostri e invece qua stasera con voi chiacchieriamo un po', chiacchieriamo un po' e poi infatti le domande dopo mi serviranno anche se abbiamo già fatto le domande prima perché in attesa ho avuto un ottimo antipasto chiacchierando un po' con voi in platea. Io ormai sto cominciando a fare un po' l'occhio alle sale, alle persone ai diversi luoghi dove viaggiamo e ogni volta però ho una sensazione precisa e stasera è più forte che mai questa sensazione, vale a dire che vi meritate di più, vi meritate un qualcosa di diverso della situazione in cui siamo. Perché io guardando nelle vostre facce vedo nobiltà, vedo pulizia, vedo voglia di fare. Il contesto poi insomma è bellissimo, vale a dire una città fantastica che era lanciata alla conquista del mondo perché Treviso era lanciata alla conquista del mondo e probabilmente la cosa giusta, non era sbagliato quello è giusta la decadenza attuale, era giusto quello perché voi vi meritate di più. Però cos'è successo invece di mezzo? È successo che improvvisamente siete diventati idioti? Io non vedo idiozia nelle vostre facce, sono stato a chiacchierare con voi fino adesso e vedo delle persone di grande cultura, grande dignità, degne di fare qualsiasi traguardo possibile al mondo come successo economico eppure vedo dei numeri che mi fanno spavento. Perché quando guardo i numeri dell'economia del Veneto in particolar modo e poi di Sponda, Lombardia, Piemonte e in generale tutto il Nord Italia io ho paura. Ho paura perché non so per quanto tempo si possa resistere. Perché ci stiamo mangiando tutto quello che con fatica di generazioni dei nostri padri, dei nostri nonni e così questo tipo abbiamo accumulato e ce lo stiamo mangiando nel modo peggiore, vale a dire con la chiusura delle fabbriche, la chiusura delle imprese, la chiusura delle aziende, chiudere non ci vuole nulla, riaprire è una fatica pazzesca e non sempre funziona. Per cui stiamo veramente buttando via un tesoro di generazioni. Ma chi adesso è anche convinto di andare meglio? Perché qualcuno che sta a galla c'è, non lo nego mica, perché se no, insomma, se tutti affondassero, vabbè, a quest'ora non stiamo neanche qua a parlarla. Però qualcuno che sta a galla c'è. Ecco, quel qualcuno che sta a galla, in realtà, visto come sta andando l'economia mondiale, perché la crisi c'è solo qua, non c'è dalle altre parti, avrebbe potuto costruire ricchezza per le prossime generazioni. Quindi chi sta a galla in questo momento, bravissimo, ma sta buttando via un'occasione che non si ripeterà mai più, perché la crescita che c'è in tutto il mondo, tranne che nell'Europa del Sud, è uno di quei rari momenti felici dell'economia mondiale, dove chi è ben posizionato e chi ha la possibilità di poter lavorare, di farsi valere, poi dopo accumula fortune e ricchezze che poi dopo rimangono per sempre. No, stiamo buttando via tutto, cioè in questo momento ci accorgiamo che chi vince è quello che galleggia, è quello che tengo duro e ce la faccio. Non va bene. Non va bene e Matteo Salvini appena detto, ma chi me lo fa fare? Beh, ma chi me lo fa fare? Ma in realtà io non sto mica facendo nulla di strano, molto banalmente sono uno che si intende un po' di economia, di scenari, perché l'economia è una cosa molto vaga, alla fine ci sono duemila specializzazioni, come dire, un po', ecco, forse la cosa che assomiglia di più è un po' alla medicina, ecco, cioè ci sono tante cose che sono un po' nell'esoterico, tante che invece ormai sono strutturate, così via, ma ognuno ha la sua specialità, no? E tante volte quando uno è troppo specializzato, poi mica si accorge del resto. Immaginate che io nel mio lavoro fossi un chirurgo oculare, no? Uno di quelli che magari mettono dentro i cristallini artificiali, no? Nell'occhio, che era una cosa molto specifica. Tutto il giorno mettere dentro cristallini artificiali, no? Nell'occhio. E beh, purtroppo capita che tu non ti accorgi che magari uno ha preso la broncopolmonite, oppure che uno ha l'infarto, perché sei troppo mirato al tuo specifico di lavoro, ma una volta che poi dopo mi sono accorto che avevamo l'infarto, e beh, poi dopo non è una cosa eroica alzare il braccio e dire, oh, attenzione, c'è l'infarto, è fermi, sospendere tutto, sospendere qualsiasi altra cosa si sta facendo, qualsiasi altro discorso di cui ci si sta occupando, prima risolviamo il problema dell'infarto, perché sennò qua moriamo. E questo è stato, io molto banalmente un giorno mi sono accorto, colpa della Grecia, vale a dire, dopo aver visto un dettaglio, diciamo così, di quello che stava succedendo in Grecia, mi sono accorto che eravamo di fronte a un'aggressione finanziaria. Chiamiamolo atto di guerra? Chiamiamolo atto di guerra. Comunque, un assalto a uno Stato da parte di un sistema economico. E a quel punto ci ho messo due secondi però poi dopo a capire che i prossimi in lista eravamo noi. E non solo, che il virus di quello che stava succedendo era abbondantemente in circolo e non ce ne accorgevamo perché eravamo sotto una droga, quella droga è la droga del debito. Privato, non pubblico. Vale a dire, avevamo il nostro mutuo della casa, avevamo la nostra macchina a rate, avevamo la nostra lavatrice Time 0, Taeg 0,2, no? E così questo tipo. Guarda caso tutti i tedeschi, no? E non ci accorgevamo che ci stavamo scavando la fossa. A quel punto poi dopo però, insomma, uno risistema un attimo le coordinate e dopo tutto appare chiaro. Tutto appare chiaro e uno dice ma l'euro? L'euro è il nostro listino prezzi nei confronti del mondo. Non è una banalità. La moneta, internamente la utilizziamo come mezzo di scambio e quindi internamente è neutrale. Il cambio di questa moneta nei confronti delle altre monete marca il nostro listino prezzi. Se noi facciamo una bottiglia di vino, no? E la bottiglia di vino costa 10, no? Se un paese estero ha un cambio uno a uno con la nostra moneta, per lui questa bottiglia costa 10. Se la nostra moneta sale, si apprezza come valore rispetto a quell'altra di moneta, tale per cui la nostra moneta vale due monete adesso invece di quella dell'altro paese, per lui quella stessa bottiglia che per noi continua a costare 10, noi non ce ne accorgiamo, sempre 10, ma per lui diventa 20. Perché a quel punto un'unità della nostra moneta vale due unità della sua di moneta. E molto banalmente non la compra più. Viceversa cosa succede? Che per noi il vino prodotto da quello là costa 5. È sempre quello. Internamente costano sempre 10 e 10, eh? Non cambia niente, non ce ne si accorge. Ma se mettiamo in rapporto la nostra economia con quella di un altro, il fatto di avere una moneta molto forte ci rende molto convenienti gli acquisti fatti agli altri paesi. Gli acquisti fatti negli altri paesi sono prodotti da altri paesi. E quindi la moneta forte crea occupazione all'estero. La moneta forte crea disoccupazione in Italia. Molto semplice. Molto semplice. E però, signori, cerchiamo di capire bene cos'è successo. Quindi vorrei farvi un pochettino di storia. Perché da quello che è successo, poi dopo, noi siamo in grado di capire che cosa succederà e perché dobbiamo scappare. L'economia, in realtà, chi mette formule, chi mette parentesi, graffe, radici quadrate, o cose di questo tipo, per carità, lasciamolo fare agli accademici, ma in realtà, quello che è l'economia è la somma dei vostri comportamenti. Il PIL, il debito pubblico, il debito privato, la recessione, l'import-export, cose di questo tipo, siete voi quando uscite fuori a fare la spesa la mattina. Oppure, è la vostra azienda che chiude o la vostra azienda che apre. Sommato, per tutta Italia. O per la vostra regione, se si sta guardando la regione. Tutto deve essere spiegabile con quello. Non c'è nessun PIL che sale o scende o una crisi o una recessione perché c'è la radice quadrata, l'integrale o cose di questo tipo. C'è perché le scelte delle persone alla mattina, quando si svegliano e vanno a fare la spesa, sono in una maniera o sono in un'altra. E le scelte degli imprenditori sono, che fanno il loro interesse, sono in una maniera o in un'altra. Io qui a Treviso vorrei parlarvi di una famiglia che un po' conoscete, secondo me, e che non so cosa sia l'opinione che si ha qua di quella famiglia che inizia con la B, ma penso che se chiediamo a tutti ce ne siano ben pochi che pensano che sono scemi. Uno può pensare a quello che vuole, ma che siano fessi, secondo me, no. È gente che ha sempre saputo fare perfettamente i propri interessi. Eh? Siete d'accordo, no? Poi dopo uno gli sta simpatico, uno gli stanno antipatici, signori Benetton, ma suppongo che fessi no. E allora, vediamo come come si sono comportati loro col passare del tempo. Perché, guardate, io sono discorsi che non ho mai fatto, quindi non è che chi ha sentito i miei discorsi da altre parti stasera si becca al bis. No, stasera si becca qualcosa di diverso. E se lo becca mirato a Treviso, così almeno sappiamo un po' di che diavolo parliamo, eh? Ok. Allora, i Benetton, se non mi ricordo male, scusate, io vado totalmente a braccio, ma un po' mi ricordo, nascono negli anni 60 come industria. C'era la Liretta, c'era, era un curioso periodo questo degli anni 60, dove c'era un'Italia con la Liretta, con tutti i suoi governicchi abbastanza ridicoli già da allora e similari, eppure cominciano a tentare di fissare il cambio della Liretta. Comincia nell'87, vale a dire lo smè credibile si chiamava, vale a dire il sistema monetario europeo in cui ci dissero guardate che affarone che vi propongo, dovete diventare credibili. Non si sa come mai, no, c'è questa credibilità, una credibilità se la guadagna a furia di prodotti, che diventare credibili perché è fisso il cambio. Dovete diventare credibili, leggi, vi fotto, ma voi non dovete accorgervene, e allora cosa succede? Blocco il cambio della Lira, quindi le monete europee devono essere tutte con la stessa proporzione l'una con l'altra. E questo succede, ha cominciato a esserci nel 78 come idea, perché bisognava poi tendere a questa meravigliosa Europa, nell'87 fissano il cambio. Fissano il cambio e a un certo punto qualcuno comincia a svegliarsi. Vede che cosa succede. Vale a dire, nell'87 comincia a andare in crisi. Perché? Blocchi il cambio, i tuoi prodotti cominciano a diventare progressivamente più cari rispetto agli altri perché non hai più quell'adeguamento che ha il mercato. Ma perché? Perché siamo più scemi? No! Perché siamo quello stato strano che dicevamo che comprende sia il nord che comprende il sud. Allora cosa succede? La media comporta che non puoi combattere contro la Baviera o similari se non hai un vantaggio perché se no dall'altra parte tu Veneto o tu Lombardia o cose di questo tipo senza avere la lira hai il bastone in testa e la carota altrove. Allora cosa succede? Comincia a fissare il cambio. A un certo punto però fortunatamente questa cosa qua salta. Salta perché il fatto che ci fossero ancora le monete singole comporta che qualche affarista in giro per il mondo ha detto vediamo se riusciamo a fare dei soldi facendo saltare per aria il sistema che è tanto evidente che non sta in piedi. Qualcuno tentava di rimanere aggrappato alla parità monetaria esattamente come adesso rimangono aggrappati con l'euro c'era qualcuno non so tipo Monti Mario per dirne una che diceva ah per rimanere con la parità monetaria fissa dobbiamo dare in cambio l'oro. Non so come dire io vendo pere la mia pera a un certo punto comincia a costare 12 quando il resto del mercato costa 10 per risolvere il problema vendi l'oro furbo specialmente se sei in combutta con quello che l'oro deve comprare però di sicuro non risolve il problema a un certo punto salta perché nonostante quello che provano a fare con Monti e compagnia bella salta tutto ma un anno un anno dopo due anni dopo qui il Veneto esplode 94 il Giappone d'Italia all'assalto del mondo è proprio il Veneto a fare quella Repubblica quindi non è una prepadania ed è proprio il Veneto a fare la parte del Leone di San Marco con un saldo positivo di 3195 imprese 3195 imprese create dopo che con la liretta siamo usciti dal blocco del cambio e dopo che bisognava difenderlo con le unghie e con i denti perché altrimenti se noi avessimo svalutato la credibilità sarebbe andata in fumo ci sarebbero state le carriole i mutui tutte le stesse cose che ci dicono adesso basta io ho qui tutto un archivio grosso così ve lo risparmio ma in ogni caso potete vedere esattamente la copia di tutte le dichiarazioni che adesso stanno facendo erano state fatte all'epoca per dire che non si doveva assolutamente mollare la parità del cambio venivano ovviamente messe le tasse sui risparmi l'ICI è nata lì perché prima giustamente la prima casa non si pagava allora nasce l'ICI poi dopo i risparmi i risparmi giustamente non si pagavano sono redditi già passati no tasse sui risparmi ovviamente tutto questo per cercare di tenere una cosa che non stava in piedi crolla e poi dopo non si ricorda un boom del genere neppure risalendo fin i anni 80 tra import e export lo scambio con l'estero aumentato di circa un terzo soprattutto in direzione della Germania della Francia e della Cina prima della svalutazione le aziende erano costrette a ridurre il personale e a rinnovare le impianti poi il cambio favorevole ha fatto il resto i torrenti da aridi sono diventati impetuosi questo è il 94 dopo che è successo quello che non doveva succedere ok a quel punto tutto sembra andare bene e no arriva e ci fanno fessi doppi dicono no adesso nel 97 si blocca ancora si deve rientrare nell'euro assolutamente quello che sarà l'euro quindi si riblocca il cambio cominciamo a pensare di tenere esattamente le parità uguali alle altre monete e a quel punto però i benettoni non sono più fessi hanno visto che cosa succede hanno capito che cosa succede quando si blocca il cambio e allora dice eh no qui non andiamo mica più avanti se rientriamo dentro in quello che avevamo già visto alla fine degli anni 80 oltretutto in maniera rafforzata perché a questo punto poi diventa addirittura una moneta unica che cosa fanno? Comprano l'autostrade molto banale cosa fai? Sapendo che i tuoi prodotti tradable si chiamano che possono subire concorrenza internazionale sono a rischio perché nel momento stesso in cui tu vai da italiano con una moneta fissa diventi poco conveniente per gli altri e l'hai già provato prima quindi è tutto logico l'hai già visto l'hai già visto tu da imprenditore lo capisci dove stai andando e allora cosa fai? Ti tuteli e allora tutelandosi che cosa fai? Sposti i tuoi investimenti in un settore non soggetto a concorrenza non arriva qua un tedesco a costruirti un'autostrada parallela per gestirla meglio e allora cosa fai? Usi anche i tuoi appoggi politici quello che vuoi e ti metti comodo comodo su un settore privo di concorrenza e intanto cosa comincia a pensare? Comincia a pensare a delocalizzare la produzione perché a quel punto cosa dice? Io sì i maglioni voglio continuare a farli ma sapendo che qua non converrà più perché il cambio diventerà comincerà a giocarmi a mio sfavore e l'ho imparato prima prendo e comincio a mettere in Pakistan comincio a mettere in Bangladesh comincio a mettere da altre parti in modo tale da poter tenere i margini di profitto da una parte sui maglioni e dall'altra parte invece mi metto molto al tranquillo con un flusso di cassa protetto dalla concorrenza ora voi sapete che la somma poi dopo di questo gioco non porta a favore dell'occupazione qua in Italia perché in autostrade di gente non se ne assume anzi possibilmente l'ha efficiento di solito cosa succede il pubblico è inefficiente allora cosa faccio arriva il privato efficiente ci mette le via card ci mette quello che vuole licenze pure tutti i casellanti o anche quello che serve per tenere un pochettino più in ordine le autostrade è similare sta ridotto all'osso perché non deve pensare al servizio ma deve pensare al profitto e allora cosa succede prende e taglia persone lì dall'altra parte sulla produzione normale delocalizza il risultato è che qualcuno comincia a essere disoccupato non solo ha tanto imparato la lezione perché avevano i piedi in Argentina eh sì l'Argentina fine anni 90 faceva esattamente le stesse cose che stiamo facendo noi oggi vale a dire aveva una monetina che si chiamava il peso e aveva ben pensato ancora di la verità e aveva ben pensato di fissarla uno a uno con il dollaro dicendo la manteniamo l'Argentina non è l'America se metti una moneta troppo pesante comincia a creare disoccupazione e vai nel fosso tira 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 se noi andiamo a leggere i giornali dell'Argentina a fine anni 90 sembra di rivedere i giornali di oggi la credibilità dobbiamo mantenere se noi se noi molliamo il cambio uno a uno con il dollaro le cavallette le mutui le carriole no tutte queste belle cose qua e il risultato l'Argentina si distruggeva chi ha i soldi cosa fa aspetta che la pera cada dall'albero i benettoni avevano capito tutto e quindi cosa succede quando l'Argentina poi dopo alla fine ha dovuto capitolare era un paese ormai distrutto hanno comprato 970.000 ettari di terreno in Argentina 970.000 ettari di terreno sono quattro volte la provincia di Treviso tutta eh tutta cioè noi ci compriamo il terreno per farci l'orto no quattro volte la provincia il territorio no da un paese distrutto e capite anche cosa sono gli interessi e perché c'è della gente che godrebbe nel vedere un paese distrutto perché in Italia di cose belle da comprare ne abbiamo e tante e tante ma voi ma scusate sempre sempre proprio pensando a il fatto che la macroeconomia poi dopo alla fine è un ragionamento fatto in grande ma di quello che facciamo noi ma se il vostro vicino avesse una cosa che vi fa gola non lo so un appartamento di fianco al vostro che volete spandere un pezzo di terreno vicino al vostro dove volete farci un orticello proprio una cosa che vorreste avere però non potete mica costringerlo a venderla se lui non la vuol vendere a quel punto voi cosa succede per questo vicino vi aspettate che prosperi economicamente o vi aspettate che fallisca voi sperate che costui fallisca certo perché quando a questo punto costui sarà strozzato voi potrete arrivare lì con il sorrisino e magari far finta anche che gli state facendo un piacere e dico ecco guarda guarda questo terreno qua che proprio non te ne fai niente so che tu ti scadono le cambiali a fine mese guarda qua vi fate vedere due soldi e questo magari ve lo vende quindi immaginate voi cos'è l'interesse degli altri paesi il nostro bene la Germania credete che pensa al nostro bene? la Germania è il vicino che sta guardando esattamente tutte le cose belle che noi abbiamo a casa e si frega le mani è cattivo questo vicino qua che punta ad avere le nostre cose no fa il suo di interesse chissà quante volte ci abbiamo pensato anche noi in situazioni analoghe ma quel disgraziato del mio piano ma se per caso si decidesse a vendermi il pezzo di abbaino il pezzo di terrazzo magari non è che siamo cattivi facciamo il nostro loro fanno il loro il problema è che su grande scala si fa questo mestiere pagando e finanziando tutta una serie di mediatori che agevolano il lavoro dello strozzino e ognuno si può immaginare un po' di nomi che però stanno facendo esattamente questa cosa vale a dire nel momento stesso in cui scientemente si mette un paese a repentaglio a invariabile rischio crisi perché gli si mette una moneta troppo forte sapete che questo stato poi dopo andrà in crisi perché succederà così e allora a quel punto poi dopo si potrà prendere per un piatto di lenticchie tutto quanto di buono questo ha e scusate in questo momento lo stanno facendo per legge perché quando voi sentite la sigla ERF che prima o poi che adesso diventerà familiare io ne parlavo da un anno guardate che fanno così ignorato totalmente ma no parliamo di rubi parliamo di altre cazzate allora intanto stanno facendo l'ERF che è l'European Redemption Fund perché bisogna mettere dei connotati moralisti tu debitore tu che sei in crisi sei sei sporco sei piccolo sei vergognoso invece io creditore sono molto furbo bravo vincente assurdo anche in America che sono la patria poi dopo del mercato quando sono andati in crisi adesso per il subprime nessuno andava a dare la colpa a chi aveva preso il prestito i soldi andavano a incolpare chi li dava in modo scriteriato i fondi le banche e così via che inseguivano la gente gli regalavano soldi no noi siamo riusciti a entrare dentro nel mondo del moralismo e questo noi poi dopo siamo imbattibili per darci delle mazzate nei cosiddetti perché noi siamo brutti noi siamo sporchi noi siamo corrotti e intanto continuano a dircelo continuano a ricordarcelo in modo tale che chissà mai che uno si ricordi invece che noi forse 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 siamo un popolo con una dignità che nessun altro può vantare invece no deve essere l'umiliazione deve essere parte del sistema dobbiamo essere umiliati e se qualcuno prova a ribellarsi all'umiliazione a quel punto diventa un pazzo un uno xenofobo un cattivo un razzista non so quante altre cose possono dire a chi come la Lega magari sta provando forse alzare un attimino la mano e dire stop eh signori però a quel punto il disegno deve essere deve essere chiaro perché che cosa succede se noi andiamo avanti così questo European Redemption Fund sarà costituito da tutte le ricchezze statali e comunali e provinciali e regionali incluso delle vostre tasse future incluso l'oro incluso le proprietà delle aziende come l'eni incluso i palazzi perché stanno cambiando il titolo quinto ve lo domandate il famoso titolo quinto della costituzione che è quello che regola gli antilocali no perché in questo momento lo Stato non può mettere le mani su bene comunale invece loro lo cambiano in modo tale che lo Stato possa mettere le mani su bene comunale e a quel punto tutti questi beni verranno messi a garanzia del debito in questo momento se noi usciamo dall'euro e ridenominiamo il nostro debito vale il chi tocca non si ingrugna vale a dire il debito è contratto in valuta corrente può essere ridenominato nella valuta dello Stato sovrano e nessuno può dire nulla quando i bot erano in lire adesso sono diventati in euro non è che uno poteva pretendere di riaverli in lire perché piacevano di più oppure uno dice beh ma le lire facevano schifo benissimo i titoli tedeschi erano in marchi non è che poi uno poteva pretendere di riaverli in marchi perché l'euro non gli piaceva cambia la moneta il regolamento che c'è sul debito dice che deve essere pagato in valuta corrente per cui se noi cambiamo i nostri titoli e li ridenominiamo nella nostra valuta che possiamo stamparci noi nessuno può dirci nulla e allora cosa succede? si portano avanti allora dice noi cambiamo facciamo questo fondo dove tu conferisci il debito il debito non diventa più tuo diventa una specie di debito comune ma a fronte perché sai c'è il debito comune come dire te lo faccio passare come un regalo che ti do c'è una commissione di 14 persone che l'ha studiata e non c'era stranamente un italiano quella che la decideva un'Austria che si chiama Gertrud Guggisberg lì una roba di quel tipo lì quindi già doveva farvi capire allora significa che tutte le nostre ricchezze vengono date a pegno e in quel caso lì fanno piazza pulita senza colpo ferire signori quando io dico quando io dico che bisogna stare attenti questo giro che non è più il solito sondaggino le elezioni europee come invece come invece era magari in passato e purtroppo è vero il PD presenta come presidente della commissione europea che dovrà poi gestire queste cose il suo candidato è uno che si chiama Schulz il capo se uno se lo ricorda un partito di maggioranza italiano candida a gestire la situazione europea compreso questa meraviglia delle RF uno che si chiama Schulz il PDL candida uno che si chiama Juncker per la se eh bene ma no ma Frankenstein magari ti aiuta no questi invece no questi sono ben precisi e mirati a fottervi Juncker è quello per dire che ha portato avanti la teoria che i conti correnti devono essere devono essere spazzati per colmare i debiti delle banche modello Cipro quindi immaginate un po' voi che se c'è qualche banca che fa qualche cazzata devono prendere il vostro di conto corrente che così imparate a depositarlo in una banca italiana e non alla Bundesbank come invece come invece bisognerebbe fare c'è addirittura un partito l'ha messo sul quello abbastanza ridicolo dove c'è quel soggetto Liboldrin che ogni tanto mi capita di di incrociare che è di queste parti oltretutto che mi capita di incrociare nelle trasmissioni che dice è partito per Ferrovi Stad cioè il loro candidato è Ferrovi Stad ma veramente siamo impazziti cioè siamo siamo impazziti siamo arrivati dentro in un sistema dove siamo talmente rimbecilliti che tutti i nostri partiti maggiori stanno facendo in modo solare l'interesse altrui e noi non ce ne accorgiamo alla fine cosa succede no Matteo Salvini prende e deve in Europa per contrastare questa cosa andarsi ad alleare con magari delle persone che possono anche non piacere a qualcuno o che possono dire di essere brutti cattivi o così questo tipo no a parte che non è brutta ma si va a alleare con Marine Le Pen perché? perché molto banalmente anche lei si sta accorgendo che il suo la situazione in Francia è esattamente uguale a questa uguale e a quel punto diventa logica non c'è destra non c'è sinistra Marine Le Pen non è di destra Marine Le Pen è francese non è tedesca viceversa i suoi destra e sinistra UMP è quello che lei giustamente fa noi le chiamiamo il PUDE il partito unico dell'euro lei le chiamo UMPS quindi mette assieme il destra e sinistra che è questa balla con cui ci hanno messo l'uno contro l'altro per anni costringendoci a beccarci fra di noi intanto che puntavano al portafoglio loro sono da una parte i francesi sono dall'altra noi dobbiamo essere così noi dobbiamo essere avere chiaro che mai come adesso c'è della gente che fa degli interessi altrui e ci siamo noi che abbiamo preso questa fastidiosa incombenza di fare l'interesse soprattutto del nord Italia ma di sponda dell'Italia intera per questo andiamo anche al sud perché è un po' come l'apologo se qua non si produce poi dopo anche chi è abituato a vivere di sussistenza o similari muore prima o poi anche loro magra consolazione però moriamo prima noi cioè quello che viene ucciso dall'euro perché è sbagliato come come moneta è il cuore produttivo dell'Italia in questo momento paradossalmente soffrono di meno a sud rispetto che al nord la differenza se c'è un paese dove sono tutti statali o tutti pensionati o cose di questo tipo e vabbè tirano avanti ma in questo momento è il nord che sta venendo attaccato è qui da noi che chiudono le imprese e quindi è doveroso quando uno dice la vostra è una posizione demagogica la vostra è una posizione fatta così per i voti ma è doveroso fare una cosa del genere è doveroso perché è per noi ma per i figli devono vergognarsi quelli che non considerano questa situazione quelli che stanno correndo dietro a nulla per andare avanti così perché evidentemente va bene così e qui c'è chi non ha capito e chi è in malafede però chi non ha capito signore è un po' tardi eh anch'io non avevo capito ma una volta che le cose sono giù sono giù sul tavolo da guardare a quel punto non hai più scuse e signori io vi voglio soltanto dare un messaggio che però è importantissimo non cadiamo nella trappola dell'inevitabile ci fanno credere che ormai il mondo va così e quindi non si può non si può decidere è inevitabile è irreversibile no possiamo possiamo decidere possiamo scegliere cose differenti possiamo scegliere un futuro differente possiamo dire tornare indietro bene possiamo anche tornare indietro possiamo anche tornare indietro ma possiamo scegliere cioè svegliamoci tutti e andate a dire a tutti quelli che non sono qua che devono svegliarsi che non è che in questo momento sono come sotto ipnosi che sono rimbecilliti da tutta la caterva di cazzate che gli hanno tirato dentro e che continuano a tirargli dentro dalla televisione perché quando io vado lì e sento delle persone che mentono in modo così spudorato a quel punto non posso pensare che ci sia un sincero scambio di opinioni l'opinione è differente io posso dire che poi dopo uscito dall'euro varrà uno l'altro dice che varrà uno e due o cose di questo tipo no ma se uno mente è perché a quel punto veramente sta pensando a fregarvi l'orto cioè è esattamente la posizione del mediatore del sensale che dice ma caspita ma io potrei accettare questo lavoro magari farei bene no non farlo matto questi qui è della gentaglia poi dopo ti sfruttano rimani disoccupato rimani lì perché punta a fottervi il giardino e quando mentono in modo spudorato purtroppo dobbiamo svegliarci e dobbiamo fare fatica tripla per svegliare gli altri ma dobbiamo svegliarci perché poi dopo vi giuro da tutte le cose per carità solo la morte definitiva ma se ci tirano a zero poi dopo ricostruire sarà impresa improba superiore anche alla voglia di fare che non è mai mancata agli italiani dobbiamo riuscire ad aggrapparci un po' a quello che abbiamo perché ce lo stanno portando via quindi è per questo che noi abbiamo deciso di puntare così decisamente su questa situazione non per una questione elettorale ma perché siamo sinceramente convinti che sia un'emergenza un'emergenza grave che mette in secondo piano poi tutto poi destra sinistra e così via ci sarà tempo dopo una volta liberi di rifare le squadre ci mettiamo assieme con cambi differenti con programmi differenti io che sono un po' più di destra vorrà meno tasse il mio amico che è più di sinistra vorrà più spesa o quello che è ma se non ne veniamo fuori siamo morti e poi dopo il morto non è né di destra né di sinistra ma è orizzontale quindi 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 il messaggio vero che vi posso dare è se avete capito come funziona e sono convinto che avete capito perché ve lo leggo in faccia sappiate che potete scegliere non pensate al fatto che la Lega ha solo 6% ma la Lega c'è solo 7% cosa vuoi che faccia se si comincia così è finita bisogna spazzare il tavolo e bisogna far vedere che possiamo scegliere e questo è un inizio